le avete viste bene le mie pagelle mi concentrei su 2-3 giocatori andiamo su Giorginio ho messo 2 a Giorginio raga io non ce la faccio più non lo sopporto più cioè sbaglia tutto non gli riesce più un'apertura l'unica cosa buona che aveva fatto sta partita è quel passaggio a Berardi che Berardi purtroppo non ha sfruttato bene però del resto perde palloni è molto insicuro non si trova mai al posto giusto andrei a commentare anche qualche buona sufficienza per esempio perdiamo di Pellegrini a cui ho messo 7 secondo me il miglior in campo dell'Italia nel secondo tempo perché nel primo tempo abbiamo fatto un po' tutti schifo nel secondo tempo mi è piaciuto davvero davvero tanto è uscito ha cambiato ruolo quello è il suo ruolo quello è il ruolo su cui Pellegrini deve andare a giocare fa aperture il gol diciamo è un 90% grazie a lui perché ha fatto un passaggio per per Redekir fantastico Redekir che mi ha dato un po' come cazzo non mi pare altro discuterei anche sul voto di Redekir a cui ho messo 6 ma è un 6 proprio una sufficienza risicata perché io gli avrei messo anche 5 e mezzo ma ha segnato e a quelli che segnano non è che posso andare a mettere l'insufficienza no però è ancora un po' cerbo come giocatore sbaglia controlli nel secondo tempo gli sono uscite le sponde è bravo di testa comunque la insaccata importa magari sarà un futuro attaccante d'Italia mi auguro è meglio per lui ma oggi 6 parlerei anche della buona prestazione di Spinazzola a cui ho messo 6 e mezzo perché Spinazzola è sempre presente e mette Walker in una grandissima difficoltà sul duo difensivo a Cerbi Toloi vado un po' scusate lì stava scritto 6 meno ma fate conto che sia un 6 a Cerbi nel secondo tempo ha recuperato comunque colpevole insieme a Toloi col primo col preso perché lì bisogna marcare meglio e a Cerbi è grosso e alto quindi deve marcarla meglio a volte fa le avanzate col pallone perde sto pallone non mi è sembrato il solito a Cerbi però non è nemmeno da insufficienza Toloi vado a messo 6 meno anche lui un po' confunzionario niente del coso esagerato buona prestazione dei Verratti che vabbè esagera però parte il gol parte anche grazie a lui parlerei di due subentrati Politano e Scamacca che mi sono piaciuto non scamacca scusate nio grazie a tutti